Sono furbetti o sono ladri? Perché per me sono ladri, non sono furbetti. Io la parola furbetto penso sempre a una persona che magari fa... C'è un po' di uncorata, dici lei, non dico positiva, però sono ladri, soprattutto in un momento in cui c'è una disoccupazione pazzesca, soprattutto giovanile. Siamo uno Stato che comunque è in crisi. Questi sono dipendenti pubblici, hanno la fortuna di avere un posto di lavoro che, viva Dio, nessuno li manda via. Allora, almeno dimostra di meritarti il posto di lavoro. Ma sei un ladro, appunto. Avevamo un budget e dovevamo concordare con le organizzazioni sindacali come premiare i dipendenti del comune. Un sindacato ci ha detto che bisogna premiare il dipendente pubblico solo per il fatto che viene in ufficio. Ma stiamo scherzando? Posso un attimo? Ma stiamo scherzando?